Abbiamo parlato dell'arte del legno, abbiamo parlato dell'arte del ghiaccio e oggi mi sentivo in dovere di parlarvi dell'arte della fusione. L'arte della fusione rientra nella categoria delle abilità innate. Difatti l'arte della fusione è una forma avanzata di chakra formata dal chakra della terra con quello del fuoco. Se si viene colpiti da questa tecnica quando assume la forma di lava incandescente, nel peggiore dei casi si rischia la morte. Qualora sia un pochettino più fortunati, si rischiano delle gravissime fusioni che comunque impedirebbero al nemico di continuare a combattere. Chi sono gli utilizzatori dell'arte della fusione? La prima in assoluto e anche la più famosa abbiamo Mei Terumi. Mei Terumi è tra le kunoichi più forti del mondo, nonché la quinta Mizukage del villaggio della nebbia. Quando Sasuke fa irruzione nella sala del summit per trovare Danzo, Mei ingaggia battaglia con Lucika, usando appunto la sua abilità innata l'arte della fusione. Durante la battaglia dà prova di saper manipolare la natura del chakra di tre elementi diversi, fuoco, terra e acqua, mostrando di saper utilizzare anche un'altra abilità innata, ovvero l'arte dell'acido, di cui ne parlerò in maniera approfondita in un altro video. Dopo lo scontro tra Mei e Sasuke, quest'ultimo rischia di morire, ma viene però salvato da Zetsuke con delle sue spore riesce a trarre in salvo Lucika e a bloccare gli attacchi di Mei. Come altro utilizzatore troviamo Dodai. Dodai è un ninja del villaggio della nuvola. Dodai possiede l'abilità innata dell'arte della fusione sotto forma di gomma vulcanizzata. Questo materiale di fatti aiuta ad attutire gli urti, ma oltre questo può anche neutralizzare l'arte del fulmine. Come utilizzatore dell'arte della fusione ovviamente Dodai è in grado di utilizzare sia l'arte della terra che l'arte del fuoco. Poi troviamo Kurozuchi. Kurozuchi è il quarto Tsuchikage del villaggio della roccia. Non è nient'altro che la nipote di Onoki, ovvero la nipote del terzo Tsuchikage. Kurozuchi, con l'arte della fusione, è in grado di creare della calce incandescente, che in genere va poi abbinata con l'arte dell'acqua per permettere alla calce di raffreddarsi e di solidificarsi. Kurozuchi sputa dalla bocca uno o più proiettili di calce incandescente, questo sia per danneggiare o per immobilizzare l'avversario. Il tutto funziona praticamente come il cemento a presa rapida. Nella lista troviamo anche un cercoterio, sto parlando di Son Goku, ovvero il tetracoda. Questo cercoterio è stato sigillato in Roshi, come il cercoterio anche quest'ultimo in grado di utilizzare l'arte della fusione. Troviamo anche Naruto Uzumaki, è in grado di utilizzare questa abilità innata dopo essere entrato in possesso del chakra di tutti i cercoteri. Anche Momoshiki Otsuzuki nel film di Boruto possiede questa abilità. Sempre in Boruto troviamo Boru, ex membro dei Kara, utilizza l'arte della fusione per creare dell'acido. Quindi, quali sono le tecniche principali dell'arte della fusione? Arte della fusione, mostro della dissoluzione. Mei produce dalla bocca un potente flusso di fango corrosivo. Questo fango, dissolvendo ciò che lo circonda, produce dei fumi che disturbano la vista dei nemici. Inoltre questo liquido può solidificarsi creando delle vere e proprie pareti resistenti. Arte della fusione, montagna in fiore. Roshi, trasformato nella sua forma intermedia del cercoterio a quattro code, crea una vera e propria eruzione di lava sotto al suo bersaglio. Modalità chakra dell'arte della fusione. Roshi, dopo aver manifestato una delle code di Son Goku, avvolge tutto il suo corpo con un rivestimento di lava, che aumenta di gran lunga il danno dei suoi attacchi fisici. A causa del calore estremo generato dalla lava, è in grado di bruciare un bersaglio anche senza direttamente il proprio contatto fisico. Quindi, oltre allo scopo offensivo, può anche essere utilizzato per scopi difensivi. Arte della fusione, tecnica della calce. Chi la utilizza e spele dalla bocca una grande quantità di calce. Questa capacità può essere manipolata per limitarne i movimenti, poiché i resti della sostanza possono agire in maniera simile al cemento per l'asciugatura rapida. Tuttavia, come detto prima, la tecnica prevede l'aggiunta di acqua per innescare questa reazione. E l'astosfera. Chi la utilizza emette dalla bocca un getto di gomma liquida, che poi si solidifica in una sfera di gomma che può essere usata o come protezione, oppure come diversivo. Così come per Dodai durante la battaglia insieme a Naruto contro il terzo Raikage. Ondata di Macigni Roventi. Chi la utilizza e spele una grande quantità di lava dalla bocca, che si solidifica rapidamente in molteplici massi di roccia fusa. Arte eremitica, arte della fusione, Rasen Shuriken. È un'abilità dei cercoteri utilizzata da Naruto, il quale accedendo al chakra di Son Goku, Naruto crea un enorme Rasen Shuriken con al suo centro un nucleo di lava. Il calore che provoca fa emettere vapore dalle lame. Questa tecnica è abbastanza potente da tagliare a metà lo Shinju, che ricordo essere l'albero divino. Bene o male, questo era tutto quello che c'era da sapere sull'arte della fusione. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, che non fa male. E noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.